Musica Bentornati a tutti ragazzi sono i veri telegaming guys Stavolta giorno dell'elezione Riesco Apocalisse dei 2 Con Henry Ciao ragazzi E cosa dobbiamo fare? Visto che abbiamo taggato Stavolta volontariamente Il camion sbagliato Nel Cof cof Nel giorno 1 Dobbiamo simulare una banca Per evitare che I repubblicani Mi sembra i repubblicani No democratici Sospettino che stiamo manipolando Ah democratici è vero è vero A favore dell'elefante Esatto che è repubblicano Quindi dobbiamo simulare questa Questa rapina in banca Allora le fasi sarebbero Entrare Trovare il server Hackerarlo Poi fare esplodere una parete col C4 Per arrivare al cavo Prendere il trapano termico Il solito trapano termico Dagli ascensori Trappanare La vault Il cavo Prendere la roba E andarsene Facile Sì infatti Detta così facilissima Però sappiamo tutti Che in Apocalisse Non è niente facile Andiamo Allora eccoci qua Eccoci qua Cerchiamo di saltare il primo pezzo Da mettere il C4 Wow Dribbling Ragazzi ho fatto Passare mezzo a due Lo so Adesso mi becca Beccano me Vuoi vedere No Ok io sono arrivato Sono arrivato io Parti beccare Ok Ah posso pure prendere un pacchetto Che bello Mamma mia sono anche qua Sono anch'io qua Oh Salve Ciao Così ti spuntiamo Anzi non posso sputtare Però te lo posso dire Ok Ok una guardia Sta arrivando Occhio C'è un piccolo bug qua Che se io sto troppo vicino Al Al cartongesso Non al cartongesso Anzi la predivisoria Mi vedono Per l'altra parte Ah Ok Sì in effetti Anche io ti vedo la testa Se ti metti così Vedi Falle Ah questi bug Ah questi bug Ciao tu bell'uomo Che dici Hai notato che tutti gli uomini Sono alti uguali In sto gioco Eh che devi fare Purtroppo Hanno un modo Il design Che Lavora bene Evidentemente Però i pavimenti Sono molto belli Sì sì Una bella mochetta Wow No 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 Non venire qua Non venire qua Non venire qua Eh vabbè tanto Uff No più Più riusciamo a fare la stealth Meglio è Eh è fatto Dobbiamo mettere Cariche cave Credo che No mi sa che Lì c'è una guardia Aspetta qua Che Mi stanno Mi stanno circondando Le guardie Ok Oh che sta arrivando La guardia Dietro di te Harry Eh perfetto Si è sentito Si è sentito Sì direi di sì Ok Perfetto Quale stai facendo Sotto Perfetto Sì Adesso C'erano 15 guardie 18 20 mila Ok Dai tu stai giù Ma nessuno che join Non gli pede Sta missione Poi è tardi Una cosa e l'altra Perfetto Salve Clocker Eh sì Prendo io Prendo io Tu curati Ok Eh lo sto trasportando io Cavo brutto Sta Unendo una certa Risa Da me si chiama Anun Però beh Io invece lo vedo Risa Ah no Risa 1992 Non l'ho fatto neanche apposta Però ho preso Un ostaggio Bene Buono io lo convertirei No Arrivo subito Come ho fatto a non tirarmi solo ucciso C'è chains da mettere No che se ne frega tanto Eh ai Eh però potrebbe essere utile Vabbè Ma noi non vogliamo vantaggi di nessun genere Ah sta migliorando il trapano Bravo 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 Arisa Sincerità Probare banche e cosi Semplici Sì c'è No dai a 30 di vita l'ho lasciato il clocker Arrivo arrivo Oggi i clocker c'hanno una predilezione per me Contro di te sì Non che i taser scherzi no però Però Eh infatti Perché hai chiamato i taser No 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 Che succede? Che cazzo ne so Si è fatto di raggiù Si è fatto di raggiù Un cecchino si è fatto di raggiù lui Son grigio? Son grigio? Son grigio? Eh come di scusami? Son grigio? Ah pure Ah pavido che non sei altro Uno stagio ce l'abbiamo Sì c'abbiamo pure Uston con cui giocare No no Uston Uston Torna su Vai vai Poi Uston deve sempre rimanere nell'arco del mio Inspire Si si Fa corammo Direi ammo Auburn Ha 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 Maybe Doctor Yeah Grande La rifacciamo? Vediamo un attimo Che tipi che livello sono Prima E' peggio di cosi Ah, ma hanno tolto il civile No il civile, ma hanno tolto il bot Beh dai, direi che si può rifare in insultezza Libero invece che abbiamo fatto E tagliamo il pezzo, che dici? Sì, sì, no Quanto ti manca? Ah no, bisogna ancora finire l'assalto E qua dovrebbe essere finito Sì Beh dai, qua E dico, scusate raga per il taglio è stato un lag Oh, taglio però Ah, perché sono ancora 20 guardi in giro 18, 17 Eh sì sì, ma le sfoltiamo subito Togli quelli che stanno dall'altra parte della strada Eccolo Ok Guarda, c'ho pure un bel regalo Per te Perfetto Nooo No, non lui Eh, lo so Infatti per questo non volevo tirarlo giù completamente Va bene ragazzi Che punto è il trapano? Ah, scusate se ci sarà un taglio Però Ha laggato in maniera pazzesca Non è colpo del mio fantaghero stavolta Grandissimo fantaghero di Harry Ah, ciao Salve a tutti Ah, si è salvato nessuno Olli the strong survive Muori male Ma sei cattivo Sì sì, devono morire tutti Chi è? Io li vedo tutte e due a non No C'è un gentilmente Bastardo Arrivo, 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 arrivo Chi è, chi è? Ah, ok Sì, è Dozer sta arrivando No, e dai Ma il taser l'ha ucciso Si è levato dalla visuale Però sta arrivando Ah, salve a tutti Ho un ostaggio qui dove sono Io se puoi interessarti Ok Si, è un po' una sega Però, fai niente Oh, è No, è morto, è morto, è morto Ah, perfetto Ai, 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 ai Sei offeso Sei offeso Ah, sì, sono una sega Allora, la prossima volta non mi prendi Infatti sono a terra io Ma chi è che tira bombe a mano? Non lo so, non lo so Ma prima o poi dovrò finirle Ah, di già Quando ci si diverte Ah, ecco Ok, da mettere il secondo trapano Ci sono le cassette anche Vabbè, non credo che Sì, è un po' Potremmo fare addirittura All loot Tanto le cassette Non ci sono altri soldi Le cassette E solo Spiccioli 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 da 3000 Dollari ognuno Esatto Io alla fine sono spiccioli 30.000 dollari Ma se camperiamo qua Invece di andare fuori Sembra che siamo tutti qua dentro Tranne una persona Ah, ecco Dai che voglio mettere Lo loot nel video Sì, sì, sì Tu che puoi Allora, la controllo io Abbiamo delle ammo in giro? Sì Eh, sì Ma le ha già messe tutte Ho paura di sì Ahia Se le vedo che stanno laggiù Eh Perché se le metteva qua Era un conto Ma se le metteva qua Era un pro player E faceva parte dei gaming guys Eh Eh Vi sono le ha messe qua Giustifica il fatto Che non ne fa parte Eh esatto Soprattutto per questo fatto Esatto Esatto Un anello da 4.500 dollari No, no Non mi fate Sono grigio Cristian Oh, allora Occhio Eh Allora Grazie delle granate Lì c'è il kit Lì c'è un altro Eh lo so Però devo arrivarci Take doctor Prendi il dottore Ho fatto volare tutti quanti E mi rifullo pure le armi Ah, non le armi Sto a posto Eh ci credo Ho un ostaggio se ti interessa Ok, arriva Dai Guarda come sta manna veloci Sì 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 Benissimo Vediamo tutto quello che serve Dai eh, dai eh, dai eh Questa sta Sembrerebbe di prendere la piega giusta Sembrerebbe Ecco Basta Non ho detto che la facciamo Ho detto che sembra Ah, ok Sembrerebbe avere la piega giusta Ok One bag Super Ok Ovviamente Perché Perché le buttano lì? Cloak Eh ma Lo sapevo che ti tirava giusto Lo vedo da lontano che Che voleva bene Ah ma quello è Everett di Gaming Guys È riconosciuto anche me Evidentemente Poi hai fatto dei video Con i Gaming Guys Eh ma se ci separiamo così Non abbiamo tanta chance Soprattutto perché dici Stai qualcuno Deve prendersi il mediback Probabilmente Che accade Eh Ce la fai tirare tutto Solo perché io qua C'ho un taser Ah intanto stanno sparando sempre al mio amico Ok ho fatto fuori uno sniper Però adesso mi devo rifillare la vita perché Ok e mi rifillo anche le armi perché Eh tanto stiamo andando via quindi Prendi tutto il prendibile Peccato che non riusciamo a farlo all loot Eh sì l'abbiamo fatto all loot scusami Eh no Che no Erano tre sacche Ah no io dicevo Ah all all No Oh io qua per me è all loot scusami No sono giù Arriva 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 Ah ok se consideriamo loot solo le dex si Eh sì Scusa che poi considera come Cazzo Sono giù io sono giù io Arriva 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 E lo fai attraverso il muro sarebbe fantastico No Via 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 Cazzo, non sono riuscito a tirarle in mezzo Via, via, via Alla porta Ma quell'altro dov'è? Ne vedo due L'altro è a casa Eh, ne vedo uno What's with the van? No, ha detto C'è qualcosa che non va con il van, allora Perché? Ah, non lo so Spero che sia per buttare giù te No Ah, ok Me, 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 mi ha fatto a me Anche a me No 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 Ah, non era un cloker il tuo, per fortuna Io qua ne ho due di cloker Ah, se ce ne andiamo, tipo? Ah, se tipo manca la borsa Eccola Sì, ma ce le stanno rubando Non ce le rubano più Ah, si è aperto adesso Ah, deve essere che era chiuso quando è arrivato il tipo Andiamo Ok È un loot per il mio gusto qua Bello, sì, sì, sì Perfetto, ragazzi Elezioni guidate e successo Con Risco Apocalisse E Wrong Track Cioè Camion sbagliato Sbagliato apposta, ricordiamo Sì, apposta, vabbè Sempre sui discorsi Eh, esatto Va bene, ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace, commenti Iscrivetevi al canale Ciao, ragazzi 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 Ciao, ragazzi